3, 2, 1, via! Via! Forte! Vai pure Peter! 3, 2, 1, via! Rimani lì in posizione, un pochino prima! Prima! Esatto, questo riso è bello! Sì! Grazie, grazie! Ok, di nuovo il gesto Peter! Attenzio! Va bene lì o ci infiliamo in quelle due? E cosa dire di quest'opera? Di rappresentazione geometrica! Ok, perfetto! Ok, perfetto! Questo è finito? No, no, no! Vai! Corato? Corato? Andava bene? Giro! Allora, è più introdattivo! Quindi, vedi, giro! Ma no, dai! Parti guardando lui! Formaggio sulla pasta contorno, ma dove siamo? Dai! Sono 3, 2, 1, via! Eh, scusi, può sovere il cappuccino per favore! Ok, grazie! Ok, grazie! Ok, grazie! Ok, grazie! Ok, grazie! Grazie!